Qui accanto a me in questo momento c'è Riccardo del Mamascafè, squadra nuova che adesso entra anche nel mio canale YouTube. Allora raga, mi racconti come è nato il progetto Mamascafè e una presentazione della squadra in generale? Ma allora, il progetto è nato con un gruppo di amici e ha deciso di traprendere questa nuova avventura, questo campionato che non si era mai fatto. E niente, siamo appunto tutti amici, ci siamo trovati e ho detto perché no? Ovviamente è il primo anno per tutti, quindi ambientarsi ancora un attimo, perché le altre squadre poi ovviamente vanno, sono altri livelli perché poi anche il loro organico sono di più. Noi siamo 7-8 contati, quindi facciamo un po' di fatica. Però tutto sommato ci stiamo a pochi punti, però le prestazioni non stanno facendo male, ecco non stiamo andando malissimo. Ma piccola curiosità, come mai oggi eravate a giocare all'aperto con condizioni proprio favorevoli per il gioco? Eh, le condizioni non sono perfette oggi, però purtroppo il campo che abbiamo preso per giocare in casa a ornavasto ce l'hanno tolto. Problemi non so perché, però ce l'hanno tolto e siamo riusciti a trovare qua a San Francesco fortunatamente. Ragazzi allora in bocca al l'uo per le prossime e... Grazie, grazie mille. Buona sera. A tal tanti.